Tios Control è il nostro programma di controllo di apparecchi e dispositivi basato su IP, compatibile ovviamente con i prodotti Sony, ma anche con molti altri marchi di schermi, tablet e proiettori presenti sul mercato. Consente di creare e aggiungere qualsiasi dispositivo esistente nel vostro database o crearne uno nuovo, gestire tutti i dispositivi da remoto, dalla programmazione al controllo a distanza, vedere a colpo d'occhio cosa viene riprodotto sullo schermo e il suo stato e naturalmente prenderne il controllo. Qui siamo nella scheda amministrazione nella quale potete avere una visuale su tutti i dispositivi presenti, vedere il modello, ma anche essere aggiornati sullo status e la localizzazione del modello. In questo caso qui a sinistra possiamo anche prendere il comando del tablet in questo esempio concreto, in modo tale da poter intraprendere qualunque azione necessaria, in questo caso reboot o modificare le impostazioni. Per saperne di più o per prenotare una demo visitate il sito tios.solutions.